Per i trovati a Camera di Commercio News, la Camera di Commercio di Torino assiste e accompagna le aziende del territorio nei loro progetti di espansione all'estero. Vediamo come. Orientarsi sui mercati internazionali non è semplice. Per le imprese che desiderano proporsi sui mercati esteri, la Camera di Commercio di Torino offre un servizio di informazione e prima assistenza attraverso World Pass, lo sportello per l'internazionalizzazione. Agli esperti di World Pass si possono richiedere informazioni su come aprire un'impresa di import e export, accedere a informazioni di primo orientamento su mercati, settori e trend, ricevere assistenza specializzata su procedure doganali, fiscali, assicurative e logistiche e conoscere normative e disposizioni sui documenti necessari. Andando poi sul sito nazionale World Pass c'è un servizio gratuito di consulenza per ottenere risposte personalizzate sui quesiti di maggiore complessità. La Camera di Commercio di Torino vi accompagna anche su alcuni mercati strategici come il programma Assist In, su analisi di mercato con il progetto Target Market o vi aiuta nel partecipare a bandi di gara finanziati da organismi internazionali. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento. Grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.